Mi interessa il sistema, e su questo ci può aiutare Borromeo, di contatto. Come si arriva in contatto con questo mondo? Molto spesso ci sono dei siti e proprio quella sera, quella notte, tra il 13 e 14 agosto, che Morisi va su un sito e inizia a contattare e parlare con un ragazzo che si fa chiamare Alexander, è molto giovane e si dice disposto ad affrontare il viaggio da Milano a Verona, però in cambio vuole qualcosa. Ascoltiamo lo scambio di chat su WhatsApp. Ciao, ti ho visto sul sito. Sto cercando per nottata insieme Sex and Fun, stanotte o domattina. Ospito e ho anche divertimento. Vorrei stare varie ore, se sei libero ne riparliamo. Scusa orario. Certo, quanti anni hai e dove ti trovi? Ho 35 anni. Ok, io attivo dominante. Oppure un amico se vuoi, tutta la notte. Cerco qualcuno con cui divertirsi, bere, sballarsi. Ma quando sareste liberi? Perché io sono già in onda. Sto cercando per notte. gods e speranà. Pa. Mi.